Ora giochiamo a golf. Per questo gioco hai bisogno di una scopa, quindi chiedi alla mamma se te la può prestare, di scatole oppure catini, come preferisci, e di una o più palle anche di diverse dimensioni. L'obiettivo di questo gioco è di andare a migliorare la capacità di saper dosare la forza in diverse situazioni con diversi oggetti e anche la capacità di migliorare la coordinazione per permettere alla pallina di andare in una direzione precisa. Ora iniziamo. Cosa fa? Prendi la scopa con due mani, posiziona i catini o le scatole inizialmente vicino a te, così è un pochino più facile. Prendi una palla, quindi iniziamo con una sola, e cerchi in posizione vicino, prendi la scopa con due mani, da qui gli livelli fermi a terra e cerchi di fare centro nel catino con la palla. Io non ci sono riuscita, vediamo se tu ci riuscirai. Proviamo anche con una palla un po' più piccola, se la palla è un po' più piccola puoi scegliere anche una scatola un pochino più piccola, sarà un po' più difficile, ma secondo me con un po' di allenamento ce la puoi fare. Come prima, il bugno è sempre con due mani, se vuoi puoi anche cambiare lato e posizione. E vediamo. Oh, oh, e ce l'ho fatta! Vediamo se anche tu ci riesci.